Il disegnatore è presente chiaramente con i suoi autori, avrà tutta la sua schiera di disegnatori che chiaramente sarà pronti allo stand come tradizione a firmare disegni fatti appositamente per Romics presenterà a Romics la sua nuova serie uscita che è Alan Lloyd che appunto è una serie molto attesa, molto dedicata appunto al... loro in qualche modo è stata definita la firma come non l'avete mai visto insomma quindi è una storia di esploratore in una maniera molto ponigliana tanto appunto che, come dire, se ne parla come una serie bene perché il lettore è ponigliano doc quindi quello che si aspetta la lettura, quindi certo, quindi insomma avremo modo di assistere a questa presentazione e alla presentazione anche del secondo volume della biografia storica eseguistrata e quindi in questo caso è una serie mila e tre, quindi il primo trentino e quindi la biografia dedicata a questa retesa, è un progetto che sta andando avanti questo è il secondo volume e è in tutta la casa elettrice di Sciotto no, poi veramente gli appuntamenti ce ne sono veramente tanti due celebrazioni in stile romics e quindi anche in qualche modo molto giocate ha due momenti particolari da una parte la serie cut Griffin che è stata creata proprio nel 1999 da un giorno di 15 anni, venerdì pomeriggio noi ce ne parleremo, sono proprio per i Village incontrando il Darkman del peore della serie e parlare insomma gli aneddoti che hanno realizzato con questa serie che in qualche modo all'inizio sembrava una botola con una copia di Simpson e poi invece è diventata fortemente e decisamente una serie particolare che è massima. Dall'altra parte avremo invece, per gli amanti delle lezioni giapponese un quarantennale molto particolare, nel senso che sono 40 anni da creazione proprio in Giappone ma non solo di alcune delle serie che ci hanno accompagnato, hanno accompagnato anche questa generazione e quindi nel 1764 è stato creato il grande Mazinga, è stata fatta e realizzata la serie di Giappopà, Aridi e insomma ce ne sono parti che ci rispondono veramente tanti, quindi ci sarà un momento appunto del Palafone, senza la catena 3.000 posti, in cui verranno in corso il momento insomma di queste serie con le sigle, con i cantanti in generale delle sigle, alcuni dei doppiatori, quindi insomma ho avuto documenti ludici molto particolari. Scorrendo appunto le varie appuntamenti, quest'anno Romics appunto sul fronte diciamo più pop in qualche modo lancia un concorso di un concerto, visto che poi l'interessi di Romics è quella di avere una community veramente ampissima e che comunque posta in continuazione foto uno dei, diciamo, dei momenti anche più carini del post Romics è anche un cuore percorre e rivedere le foto che le persone hanno fatto, sempre in maniera molto carina e quindi in qualche modo sanno andremo a premiare i selfie particolari, quindi l'espressione anche dei sentimenti provati, dalla gioia, non so, anche alla arrabbiatura che abbiamo fatto alla fine era un po' lunga in pimenteria, per cui insomma, e ci sarà chiaramente una premiazione dei selfie più religiari che abbiamo visto. Dell'universo con Eri appunto abbiamo parlato, per quanto riguarda le mostre, che in quest'ultima edizione è veramente cresciuto molto e ha ospitato veramente degli originali e anche appunto delle stile, delle opere che avevano ad hoc in questi ultimi anni, avremo un percorso biografico appunto dei quattro Romics d'Oroco, in particolare appunto con gli acquarelli di Dianello e unito a questo ha anche una mostra particolare, questo che Romics guarda sempre più grande interesse di tutto quello che è la fantascienza, fantasy, una mostra dedicata ai nostri, come dire, realieni, tele e copertine delle riviste degli anni 30, 50, americane che in qualche modo ci hanno proposto, prima che venisse voi la visione del cinema e degli effetti speciali, ci erano proposti delle visioni, devo dire, molto molto affascinanti. E continuiamo con il tradizionale concorso per l'autocorso per l'autocorso realizzato in collaborazione con il mezzo di studio digitale dedicato appunto a tutto quello che riguarda la tecnologia per realizzare il video e quant'altro ed è un autocorso che coinvolge tutte le case di distribuzione dell'autocorso ed è un'autocorso realizzato in Italia e vedremo appunto altre delle proiezioni. Arriviamo al cosplay, la gara...